Tra i mille impegni di un ottobre molto complesso dal punto di vista editoriale, con Umberto abbiamo trovato un momento per fare un bel esperimento sociale con Mario Party. Sì, corretto. Visto che il gioco, insomma, si propone di parlare a un pubblico molto ampio, noi oggi quello che faremo è girare per Milano e far giocare il gioco a un po' di persone incontrate a caso e vedremo un po' come va. Hai un commento al volo? Sto vincendo. Due, uno... Vai, 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 Mario! Vai, vai, vai! Grande scatto di Mario con Yoshi. Yoshi, incredibilmente, forse riesce a vincere. Yoshi si era nascosto durante i test e ha vinto. Ce ne manca una. Ce ne puoi all'altra parte. Dai, 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 dai. No! Ma chi è Mario? Chi è Mario? Ma sei tu? Ma sul serio? Oh! Oh! Vince incredibilmente Bu. Ok. Dai, 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 dai! Vai, vai, vai! Vabbè, ma incredibile. Tutti insieme siete arrivate. Ciao! È bellissimo!